Dovrà sfilarla dalla testa del re Come vedete sempre contro un paio di avversari Una palla dentro, sfila Severini E' parato e poi ancora Severini Ancora fuori, incredibile Vedremo come la spulteranno i ragazzi del Tottenham Vanno l'anno col destro Il miracolo di scazzarla in corner Noni, forse in questo caso un po' troppo lezioso Prova il fallo tattico Cardelli Non ci riesce a prendere la corrente Dorazzo Fa tutto solo Dorazzo, il sinistro Caterini Stavolta salva lui la porta del Football 8 Grande intervento dell'estremo difensore Il numero 9 del Cottini ma ha sparacchiato alto Di Linca con il sinistro Ancora super parata di Paoletti Che tiene in piedi il Cottini Cogallo è pronto alla battuta Va direttamente con il Mancino E poi cerca il tap-in Fabrizio Vuoto Ma che parata da parte di Esports E' stato bravissimo